Un anno difficile per Terni, l'Umbria, per l'Italia. Oggi chiudiamo questo centro perché il tempo volge al bello. Il tempo volge al bello, chiudiamo questo centro anche perché il centro ha funzionato molto bene, frutto della collaborazione tra tanti enti, della sinergia che c'è stata con l'ASDA, con la provincia, con la disponibilità di tanti volontari, tanti medici, personale sanitario che hanno raggiunto dei numeri veramente importanti. E questo sicuramente ci ha aiutato a far volgere le cose verso un tempo più bello. Quindi questa è stata una struttura strategica, non soltanto per Terni, ma anche una dimensione più ampia. E credo che occorra ringraziare tutti coloro che hanno lavorato, si sono spesi, hanno veramente messo il cuore e l'anima per poter raggiungere i risultati notevoli che sono stati raggiunti in questo centro. Benissimo.